Forse il 4-0 è il risultato pesante per l'insula, però conferma che la nuova Santa Egidiese si è ritrovata e bisogna continuare così fino alla promozione. Sì, guardi, abbiamo attraversato un momento complicato, poi le dicevo in una delle sue trasmissioni estremamente professionali, corrette, che comunque all'inizio del giorno di ritorno nessuno avrebbe scommesso sui 10 punti di vantaggio della Santa Egidiese con la seconda in classifica. Volevamo fare un gabbionato dignitoso. Ci siamo ritrovati lì al vertice, il merito va un po' condiviso tra i meriti dell'allenatore e della squadra unitamente a quelli della società. La cosa bella è che comunque ci siamo ritrovati, nelle ultime quattro partite abbiamo totalizzato il massimo 12 punti. Oggi forse non eravamo al top, un po' per una serie di condizioni climatiche. Però non si può discutere del 4-0, una annotazione che se da un lato sa di squadra che vuole giocare al calcio sempre e dall'altro forse diventa un limite, perché su questo campo se talvolta qualche pallone lo butti lontano non è la fine del mondo. Invece la Santa lo gioca sempre. Lei ha colto, dicevo prima non a caso, le trasmissioni di supergeo altamente professionali, quindi condotte anche da un tecnico valido che oltre a fare il commento legge bene la partita. Io umilmente vi permetto di dire questo senza entrare nel giudizio tecnico. Non si possono snaturare le origini tecniche dei calciatori. Se uno è abituato a giocare a pallone gioca sempre. Con la prima o con l'ultima, con la seconda o con l'ultima. Ovviamente lei ha detto una cosa e mi preme di sottolinearle. Grande onore agli sconfitti che sono ultimi in classifica. A vederli oggi penso che non meritano quella classifica. Non so quali sono le condizioni che purtroppo le erano in quella classifica. Ma veramente onore ai vinti perché ci hanno dato il filo da torcere fino a 20 minuti dalla fine. E questa è una cosa positiva. Ultima annotazione. Quando è che pensa si potrà festeggiare facendo i dovuti scongiuri? Guardi, io le dico le prossime due partite tra l'altro colgo l'occasione per dire visto che sono stato proprio adesso contattato da un paio di tifosi che poi rappresentano il cuore per andare avanti, la condizione pulsante della società. Mi avevano chiesto il direttore per domenica vorremmo organizzare due o tre pullman a caso e lo faremo volentieri organizzandoci al meglio, chiedendo anche alla tifoseria di comportarsi in un modo corretto. Mi auguro che domenica ci siano tutte le condizioni per fare una partita che poi sia degna di nota tra la prima e la seconda o terza del campionato che se la stanno giocando fino alla fine perché tra l'altro poi le inseguitrici come vedete non mollano. Noi sapevamo di giocare dieci partite fino alla fine che devono essere dieci finali. Inizieremo da domenica a pensare che le ultime sette partite, tre le abbiamo evase, le ultime sette partite devono essere giocate con il piglio di veramente di una finale.